quando arriviamo questo era bisogno di essere scatti no 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 ero io ma è morto si si ti accanto ciò ah si se volete faccio un medico no no sei tranquillo oh le corone ah se prendo la corona oh cazzo scherzando spam oh ok e poi c'è la corona ma sono ti casca tutte cose ma si affacciano ora spacco tutto ecco l'ho visto l'ho visto dove andiamo tu gabi sei tranquillo ci prendiamo noi io la corona prendila prendila voglio essere incolorato parunos ma perché la presa di co no io l'ho presa io c'ho di gioia e dai cosa cosa voglio raggiungere uno credo ce l'hanno tutti ma quanti sono rimasti ah boh siamo a 3 contro 1 ultimo manca oh ecco l'ho sentito sperare si eccolo visto sta sempre montata il drone la mia costruzione guardalo ah si e lea è la si eccolo aspetta io ciò busciamolo busciamolo raga busciamolo i ragazzi sarebbe aggiunto busciamo eh io si io si io si io si vai diciamo qui no l'ho messa lì o mai io sto busciando lo spacciamo vai 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 guarda che il gian la lupo da cosa cazzo è bu eccolo no no non è qui eccolo cosa fare io va bene fa la uccidere a gabrie devo fare mica dove è dove è eccolo vai gabrie dov'è abbiamo vinciuto era un campino si fa lo posso dire era un campino ok